Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti sono in ritardo. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. I nostri amici ci aiutano davvero tanto. Qualcun'altro ha visto quello che è successo? Questa amica ti è sempre stata molto vicina. Non ho nient'altro da aggiungere ancora. Io so qual è il vestito che ti piace di più. L'anno scorso non sei stato in vacanza. Viaggio spesso in auto sull'autostrada. Sul lago c'è un cigno. Maria lo osserva. L'odore di quelle spezie mi piace molto. Maria ha raccontato tutto alle amiche. Ci hanno detto che è stato un incubo. La tua è una bella idea, ma solo in teoria. Avete concluso un buon affare stamattina. Ci ho messo tanto tempo per capire. Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Non ci sono andati. L'altra volta pioveva. Vado spesso in moto da Pisa fino a Roma. Va, ma non ci mettere troppo tempo. C'è gente che inventa scuse ogni giorno. Da allora ho iniziato a mangiare più sano. D'ora in poi non ti racconterò più nulla. Io cantavo. Io cantavo. Cantassi. Io facevo. Facessi. Io stavo. Stessi. Lui era. Fosse. Lui cominciava. Lui cominciava. Cominciasse. Lui leggeva. Leggesse. Io dicevo. Dicessi. Noi bevevamo. Bevessimo. Noi davamo. Dessimo. Io guardavo. Guardassi. Guardassi. Tu capivi. Capissi. Io bevevo. Bevessi. Tu dormivi. Dormissi. Tu vedevi. Vedessi. Tu eri. Fossi. Lei aveva. Avesse. Noi davamo. Dessimo. Lui faceva. Facesse. Voi eravate. Foste. Voi uscivate. Usciste. Lei diceva. Dicesse. Noi sapevamo. Sapessimo. Voi potevate. Poteste. Noi pagavamo. Pagassimo. Voi mangiavate. Mangiaste. Loro arrivavano. Arrivassero. Loro venivano. Venissero. Loro avevano. Avessero. Chi devo ascoltare? Cosa devo prendere? Quante persone ci sono? Perché non vieni con noi? Come mai arrivi adesso? Dove stai andando? Quale gelato preferisci? Quando compi gli anni? Chi ha rubato i soldi? Cosa vuoi fare domani? Come ti senti oggi? Non so come farlo. Perché non la smetti? Dove trovo un bagno? Quanto tempo ci vuole? Che giornale leggi? Con chi vai al cinema? Di cosa parlate? A che ora c'è lezione? Quanta acqua bevi? Come fai a saperlo? Da dove vieni? Dove sono le chiavi? Qual è il tuo nome? Che lingue parli? Quanto sei alto? Qual è la tua auto? Dove lavori? Avete degli amici italiani? No, non ne abbiamo. Vorrei una bottiglia d'acqua. Ne hai una più piccola? Luca ha un cane. Io ne ho due. Le forchette non bastano. Dammene altre. Vorrei del prosciutto. Mi dispiace, non ce n'è più. Ho una nuova macchina. Ne vorrei una anch'io. Che ne pensi di Paolo? Ho speso molto, ma ne è valsa la pena. Chi se ne importa? O chi se ne frega? Non ne posso più. Me ne devo andare. Quante cartoline devi scrivere? Ne devo scrivere altre due. Quanta pasta vuoi oggi? Oggi ne voglio mangiare poca. Hai sentito le ultime notizie? No, non ne so niente. Oggi ho ricevuto molte telefonate. Ne ho ricevute dieci. Andiamo via. Che ne dici? Quante me le vuoi? Le vorrei tutte. Hai bisogno di una matita? Sì, ne ho bisogno. Conosci qualche cantante italiano? No, non ne conosco nessuno. Non ne ho più voglia. Ho comprato un libro e ne ho lette due pagine. Io sento, io sto sentendo. Io sento, io sto sentendo. Cantare. Tu canti, tu stai cantando. Finire. Lui, lei finisce, lui, lei sta finendo. Mangiare. Io mangio, io sto mangiando. Avere. Io ho, io sto avendo. Fare. Io faccio, io sto facendo. Andare. Io vado, io sto andando. Leggere. Io leggo, io sto leggendo. Piangere. Tu piangi, tu stai piangendo. Spendere. Lui, lei spende, lui lei sta spendendo. Cucinare. Cucinare. Io cucino, io sto cucinando. Svegliarsi. Io mi sveglio, io mi sto svegliando. Cadere. Io cado, io sto cadendo. Parlare. Io parlo, io sto parlando. Bere. Io bevo, io sto bevendo. Uscire. Tu esci, tu stai uscendo. Dire. Lui, lei dice, lui lei sta dicendo. Chiudere. Io chiudo, io sto chiudendo. Vedere. Io vedo, io sto chiudendo. Sto vedendo. Capire. Io capisco, io sto capendo. Studiare. Io studio, io sto studiando. Non ho soldi. Non ho mangiato nessuna patata. Non ho mangiato nessuna patata. Prendo un po' di zucchero. Non prendo pane. Voglio dell'acqua. Ho bisogno di dormire. Ho fame. qui c'è molto cibo. Marco ha venduto la sua macchina. qui c'è molto cibo. Sara è andata al cinema. Maria ha comprato le scarpe nuove. I miei amici sono andati in Italia. Anche le sue amiche sono andate in Italia. Loro hanno visto quel film già due volte. Voi avete già mangiato, vero? Noi tutti siamo andati al parco ieri. Maria, quando sei tornata dall'Italia? Maria, quanto pane hai comprato? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Dove pranzate? Dove pranzerete? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria? Con chi uscirà Maria? Quando inizia il lavoro? Quando inizierà il lavoro? Vedo che stai giocando. Suppongo che tu abbia finito di studiare. Spero che Luca abbia capito quello che volevo dire. Oggi Teresa dovrà sostenere l'esame di diritto. Mi auguro che lo superi. Pensi che questa sia la strada giusta? Io invece ho paura che sbagliamo. Dicono che Antonio abbia visto la sua ragazza con un altro. Si lasceranno? È opportuno che tu telefoni a guido prima di andare a casa sua. Invece di chiacchierare nel corridoio, non è meglio che seguiate le lezioni? Francesco, sono veramente felice che tu e Maria abbiate deciso di sposarvi. Lucia, non voglio assolutamente che tu esca con Marco. Penso che tu abbia la febbre. Hai gli occhi lucidi e una tosse da far paura. È bene che vada dal medico a farti visitare. Suppongo che Franco sappia quel che dice. Monica non è sicura che tutti paghino la loro quota di iscrizione. Non sono certa che le ragazze d'oggi conoscano le ricette tradizionali. Non è sicura che le ragazze di chiacchierare nel corridoio.